Salgono a 217 nuovi positivi al coronavirus rilevati in un giorno nella nostra regione. La provincia più colpita è quella di Pesero-Urbino con 89 contagi, seguita da Macerata con 42. In aumento anche il tasso di incidenza che supera il 73% su 100.000 abitanti. Inoltre nelle ultime 24 ore è stato registrato un decesso legato al Covid. Si tratta di un novantenne di Tolentino. Invece negli ospedali c'è un paziente in più, sia in terapia intensiva sia in quella semi-intensiva. Numeri però che al momento, come ha ribadito ieri il governatore Francesco Acquaroli, fanno restare le marche in zona bianca. Noi stiamo assistendo a un repentino incremento del numero dei casi. Sono dei focolai che generati da rientro delle vacanze. È una cosa che ci aspettavamo. Siamo pronti per fronteggiare questa situazione epidemiologica da noi attesa, potenziando l'attività di contact tracing in maniera capillare. Il tracciamento, infatti, come ha precisato il dottor Liverani, è essenziale per evitare che la situazione possa precipitare nelle prossime settimane. Per quanto riguarda i punti di vaccinazione, diversi appuntamenti erano stati spostati. Ad oggi, invece, è più o meno tornato tutta la normalità? Guardi, noi abbiamo avuto una criticità la scorsa settimana, perché avevamo un delta di diverse migliaia di dosi, tra le dosi necessarie e quelle disponibili. Poi, fortunatamente, grazie al Servizio Sanità della Regione e alla Direzione Asur, c'è stata una fornitura straordinaria di circa 2.000 dosi. Questo ha permesso, in parte, di evitare molti differimenti. Quindi siamo ripartiti in maniera abbastanza regolare e diciamo che adesso la campagna procede in maniera abbastanza normale. Quante sono le dosi che vengono somministrate quotidianamente? In questo momento le dosi somministrate quotidianamente sono un po' ridotte rispetto alle settimane precedenti, in cui arrivevamo a circa 1.100 dosi al giorno, ad esempio sul PVP di Pesaro. Al momento, quando siamo aperti l'intera giornata, ci attestiamo sulle 600-700 dosi. Il dirigente medico poi è intervenuto sulle lettere spedite dall'Asura a un centinaio di sanitari in Novax. In totale, però, nell'area Vassa 1 sono circa 700 gli operatori che non si sono ancora sottoposti alla Profilassi. Tra loro c'è chi si è prenotato ed è in attesa della somministrazione, ma anche chi, per vari motivi, non può riceverla. Il nostro compito si esaurisce a questo livello. Ora spetterà ai datori di lavoro mettere in atto le azioni conseguenti. Noi sappiamo che dal decreto le azioni possono andare dall'assegnazione del lavoratore inadempiente a mansioni anche inferiori, purché non sia presente il rischio di diffusione del contagio, oppure, quando questo non è possibile, anche alla sospensione.